Sei favolosa, Miss Monipenni. Fascia di seta? Molto banale, Mr. Bond. Il caso della figlia quadra, la biopsia stereotassica conferma il glioblastoma al quarto stadio. Non risponde alla chemio, ma gliel'hanno fatta lo stesso e le è andata bene. Perciò o è intervenuto Dio ed è una spiegazione discutibile o non sappiamo perché. E non ci sono spiegazioni. Alcune volte non ci sono spiegazioni. E a me sta bene così, House. E a me dà tanto fastidio. Mi servono quella cartella, quella sedia e quella scrivania. La tua donna falsifica i fatti. In cinque di quei casi il dosaggio dichiarato non spiega i danni da radiazioni. La sensibilità varia. Non così tanto. Sì. L'ho pensato anch'io. Gli l'ho chiesto a bruciapelo e lei ha detto che quei dosaggi erano molto precisi e che non ha fatto niente di sbagliato. Perché moralmente non lo era. Erano tutti pazienti terminali. Ha superato il dosaggio massimo consentito per salvargli la vita. È un'ingenua ed è perfetta per te. Sti. 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 Grazie a tutti